L'ambiente rimane sempre uno dei punti nodali di qualunque discussione che coinvolga l'attualità e non solo per le questioni legate alle condizioni di criticità. Ambiente è soprattutto un bene che deve essere esaltato e valorizzato se si vuole realmente programmare uno sviluppo che sia, come oggi si suol dire, sostenibile. La Calabria, regione ricca di beni ambientali di riconosciuto valore, può giocare un ruolo da protagonista in questo settore. Lo conferma l'assessore regionale Rosario Varì che offre un suo preciso punto di vista, partendo da un territorio che può definirsi verde per eccellenza, come quello inserito nella provincia di Vibo-Valenzia. La regione può giocare un ruolo importante per lo sviluppo dell'ambiente attraverso i beni che la Calabria possiede? Assolutamente sì, la provincia di Vibo è ricchissima di tutti questi beni, perché siamo abituati molto spesso a sentire parlare della provincia di Vibo come dal punto di vista delle spiagge, del mare, dei litorali, della meravigliosa tropea, ma non tutti sanno perché evidentemente non siamo riusciti a comunicarla al meglio che Vibo ha anche, la provincia di Vibo al proprio interno, il Parco delle Sere. Un territorio grazie al quale si può sviluppare un turismo diverso, un turismo lento, un turismo enogastronomico, un turismo per chi vuole stare a contatto con la natura e godersi questi meravigliosi paesaggi. Il governo regionale sta creando un contesto favorevole perché anche questo tipo di turismo, come tutto il turismo in Calabria, cresca. Ciò significa soprattutto incentivare un'offerta qualitativamente migliore rispetto a quella che abbiamo, soprattutto per quel che riguarda le strutture recettive. significa incentivare gli antichi mestieri, le arti, l'artigianato che è particolarmente apprezzato da parte dei turisti, significa valorizzare in generale il nostro territorio. Dobbiamo continuare su questa strada e fare in modo che questa provincia non viva soltanto di mare, ma viva anche delle proprie bellezze culturali e della propria montagna che è davvero, davvero meravigliosa.